Le mafie sono per definizione degli aggregati di individui che per il proprio esclusivo profitto delinquono e dissangono il tessuto civico in cui si trovano. Certamente questa è la definizione che si può appioppare alle mafie regionali, che vanno, ripeto, combattute, ma è ancora più, come abbiamo visto da questi dati, la definizione che va appioppata alla grande mafia e dei doppio petto blu della Banca d'Italia e del sistema finanziario internazionale. Ripeto, la differenza però è che nel caso della Camorra, dell'Andrangheta o della mafia almeno i nostri magistrati hanno almeno uno strumento per combattere, almeno la nostra polizia ha uno strumento per combattere, cioè la loro illegalità. Nel caso di questa maggiore mafia di cui ho parlato fino adesso non abbiamo nessuno strumento per andarli con.